coni ciò cari giappolovers e benvenuti voi qui nel canale sono come sempre giappogamer buoni qui un nuovo episodio quest'oggi di indivisible siamo aggiunti numero 37 e allora andiamo subito a vedere che cosa succede in questo nuovo appuntamento quest'oggi nel favoloso mondo di indivisible ok bene così allora proseguiamo per di qua vediamo un po il da fare vai così vai così asana vai così poi vediamo un po dove andare direi per quassù ok bene così vai passa qua ok bene così poi qua giù poi qua diamo una rapida salvata ok e cavolo questo qua tocca farlo fuori vai che dire pensaci tu ok sparato vai dar vai dar vai tu vai tu mamma mia che botta ok bene così vai cadira vai anche tu ok dai 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 vai 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 asana ok vai che esploso vai quasi del tutto ma è solo la parte sotto ma che caspita e prendi questo qui così e non ci va a perdere tempo vai cadira attacca vai così vai così vai così recuperiamo un po le energie occhio che questo è un bastardone pure lui ok bene così vai dar vai tu vai tu distruggilo distruggilo eh vabbè ok volevo andare anche un po' meglio ma è cazzarola vai ragazzi il problema è che poi questo mini boss fight non da nemmeno dei punti esperienza tacci sua cioè sta qua solo per infastidire vai cadira vediamo un po' chi è recuperato occhio comunque tocca stare sempre in campana oh esplodi va oh che cavolo salve bella gente stiamo un po' di fretta sinceramente ok bene così ok 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 wonderful bene così yatta yatta e direi di andare per di qua che non abbiamo esplorato nulla non so che cosa sia sto schifido gelatinoso mamma mia sembrano delle e che caspita però sembrano delle mammelle tipo c'è una cosa allucinante va bene ok vediamo un po' la ok no non c'è nessun passaggio ok chi sei quando un car armato deve essere riparato non basta un meccanico qualunque ah ecco perché ci sono i car armati in giro bisogna portare qualcuno di grosso calibro come me ringo ah ringo che poi in giapponese significa mela no e che caspita sti esserini spastardi maledetti quanti siete qua basta che non mi che non mi moltiplicate vai nuna grandissima mamma mia come divertivo nuna grandissima e prende questo qui esserini su insomma anche come vi chiamate tacci vostri vai dar pensaci tu falli fuori tu vai tu fai così grandissimo almeno loro danno punti esperienza cavolo almeno quello uno non pretende chissà quanto ok tu chi sei per poco non ci lascio la pelle ho letto altro in quell'esperimento devo fare più attenzione eh si cara cerca di fare attenzione ok tocca andare per di qua ok grande bene così qua c'è qualcosa che bisogna sapere e che caspita ok qua su no vabbè ok vabbè in qualche modo ci abbiamo fatta vediamo un po' ok e siamo fuori cavolo siamo fuori ok bene così salviamo un attimo vediamo un po' che cazzo c'è di qua eh e ci stai tu ci state voi guardie bastarde maledette vai ragazzi vai ragazzi così grande nuna grande nuna vai vai dar vai ancora tu dar vai che ancora non ci hanno attaccato vai così almeno becchiamo i cagnacci va vediamo un po' vai nuna vai nuna vai nuna grandissima nuna grandissima occhio ragazzi occhio ragazzi bene così grandissimi va che abbiamo tre puntazzi tazzi vai dar vai dar pensaci tu ste guardie bastarde maledette ma che ne è rimasta solo una occhio e si para sta bastarda maledetta di guardia c'hai paura? vai dar vai dar vai dar vai dar ok è una bella botta grande nuna grandissima le sue pianticelle come ci difende da chi manca ovviamente poco vai dar per la botta finale vai così ok 1622 punti esperienza bene così katira 29 cuori nuna 27 cuori dar 2 cuori e sta in positivo mamma mia questo momento diventerà veramente una belva in questo videogame ancora tu e ma basta sto cagnoncino sto carammato maledetto bastardo ah con anche le guardie stavolta tutte insieme e no ma cazzarola vai nuna vai nuna vai nuna vai così grandissima nuna crea questo divertivo incredibile sparato bene così si vai vai ricoveriamo un pochetto vai nuna ancora tu ancora no ancora tu ok vai che il carammato adesso sta a metà non lancia più non lancia più missili vai katira vai katira vai anche tu dar coraggio coraggio mamma mia che pezza occhio bene così ragazzi bene così recuperate un po' le forze ok recuperate le forze che adesso attaccano occhio occhio e prende questo qua bastardi maledetti oh quanto gaspia siete tosti e doietemi dai mamma mia vai dar vai dar pensaci tu vai così 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 oh bene così bene così da che sta caricando il soldato vai così vai angna vai angna vai angna va che manca veramente poco e ancora attacca ancora attacca ancora attacca oh esplodi gazzarola esplodi e non ci ha dato manco punti esperienza no dai vai oh ecco campana oh ecco campana sopra di noi mh dalla porta anteriore ma meglio non farsi vedere beh direi di si eh mh si tipo un ascensore servirebbe dobbiamo cambiare piano al di fuori del regno di ferro torniamo al porto ok ci aspetterai qua va bene va bene cara ok anche perché e no non gliela fa cazzarola vediamo un po' eh si e poi viola e giallo non ci può proprio non ci può proprio passare cazzarola fanno un ultimo tentativo no non gliela fa cavolo no proprio non gliela fa va bene ok allora tocca tornare indietro e no ma basta ma ancora voi ancora voi no ma cazzarola vai dar pensaci tu che qua tocca tornare al porto sani e salvi vai dar ancora tu pensaci tu ok parato 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 più o meno vai dar vai ancora tu vai ancora tu ok ok e che caspita vai in una vai in una ok grani diversi voto in una parato parato pariamoci e dai e dai attacchiamo così e dai vai che la parte sopra può attaccare solo da sotto così ma niente più vai vai così parato vai dar vai dar vai dar vai tu vai cadira vai cadira anche tu ok riprendiamoci un attimo riprendiamoci un attimo ok pure la seconda guardia andata fa per fortuna che non torna indietro torna indietro ma non attacca indietro questo almeno questo insomma questo mini boss fight vai ragazzi così grandissima la pianta che un po' l'ha bloccato vai vai tu grandissima va che c'ha c'ha pure una pianta sotto ok bene così vai nuna vai tu vai tu kaboom bastarda e basta e basta oh e stiopa porca la miseria allora vediamo un po' appunto la situazione quindi tocca tornare indietro io risalvo al volo qua vediamo un po' magari qua c'è qualcosa vediamo un po' qua tocca correre e cala lo sapevo ok 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 oh tu chi sei? secondo jasmine ciao sito dal famoso programma radiofonico jasmine la rosa d'acciaio spiacente non concedo autografi vabbè ok qua c'è quello lì tacci su la settimana ho incontro con i grifoni in regno di ferro peggio per loro e prendi questo qui così occhio ragazzi occhio occhio ragazzi attacchiamo sti cagnacci bastari maledetti vai così così vai dar vai dar pensaci tu così 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 vai ancora tu dar vai ancora tu vai ancora tu vai tutte e due così si buoni 1400 punti 407 punti di esperienza bene bene così in una 28 ottimo oh è facile livellare cazzarora presa oh ecco che ci stava qua eh siamo arrivati a 8 ok quindi qua tocca scendere qua così direi a volte a volte nei palazzi bisogna metterci anima e corpo letteralmente ecco perché essere piccoli ha i suoi vantaggi ho capito ma vediamo un po' ma ah ok quindi tocca passare per di là passare per di là eh si però ma prendilo cazzarola liscio liscio vediamo un po' ma cazzarola però ok 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 allora vediamo un po' ok qua era il passaggio bene eeeh vediamo un po' di passare per di qua vediamo un po' forse può andare bene pure qui ok 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 vai che c'è un salvataggino anche qua bene grandissima acena va bene così a cavolo a cavolo vai preso ok e siamo a 9 non so c'è vantaggi 9? no cavolo cavolaccio eeeh vabbè però cavolo ora bisogna mettersi qua mettersi qua giù in pizzo eh e ok qua preso beh ah ok poi possiamo correre ah no forse ah no forse qua su ok bene così ok giù per di qua no però qua eramo appena arrivati va bene ok ma buoni tutti ok ottimo così allora siamo giunti al porto bene così ok eccoci bowzai si pronto ad andare angela? assolutamente si levate l'ancora e torniamocene a questo punto ce ne torniamo a canul mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi pure questo episodio mamma mia incredibile caricamento in corso vediamo un po' quanto ci mettiamo ok eccoci qui ok ciao amica mia e va bene ok bene così ed eccoci allora nel mondo colorato il mondo interiore di Ashna che è questo appunto mondo colorato pieno di personaggi che in realtà abitano e condividono le esperienze personali della nostra Ashna della nostra eroina e allora cari anche questo episodio numero 37 questa serie incredibile ovviamente come sempre per quanto riguarda questa serie termina qui io spero che vi sia piaciuto questo episodio di oggi se quindi forse vi invito gentilmente a lasciare un like un commento fatemi sedere la vostra una e condividete insomma questo video con i vostri amici amiche con chi volete voi tanto fa conoscere un po' di più Giappo Gamer ovviamente vi invito a seguirmi i vari social dove potete contattarmi tramite la pagina facebook twitter instagram canale telegram vado a scrivere Giappo Gamer in questi social e mi trovate agevolmente insomma potete chiedermi qual si voglia io vi risponderò nel più breve tempo possibile in più vi ricordo di iscrivervi al mio canale di attivare la campagna per rimanere la giornata i miei video su gaming giapponese a 37 gradi e in ultimo vi ricordo anche il mio blog personale su wordpress dove scrivo prettamente i news e risultati sui giochi che riesco a portare a termine sul canale e allora vi aspetto appunto su wordpress giappogamer.home h-o-m-e punto blog e allora cari ragazzi cari Giappolovers vi ringrazio per essere qui e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto matanè e i prossimi episodi